L'Ausle di Imola completerà entro la fine di aprile il piano di assunzioni relativo al primo semestre 2019, un percorso di reclutamento che era stato rallentato dalle tempistiche amministrative e dalla necessità di ricorrere come prima soluzione alla mobilità interaziendale e che aveva portato a segnalazioni di criticità da parte di lavoratori e sindacati. Abbiamo fatto un'operazione di reclutamento che prevedeva nel primo semestre, quindi per le uscite del primo semestre un impegno di reclutamento di circa 30 infermieri professionali e circa una ventina di operatori sociosanitari e altri professionisti. Poiché le tempistiche per i reclutamenti non sempre dipendono da noi, ma dipendono dalle procedure amministrative e dai meccanismi di vincolo che abbiamo, abbiamo comunque agito cercando di prevenire le situazioni di criticità mettendoci nelle condizioni di assumere con somministrazione del lavoro del personale interinale. Quindi oltre a fare le operazioni di reclutamento che ho detto sopra, abbiamo anche assunto circa 15-16 infermieri interinali per il tempo necessario per la copertura delle nuove assunzioni e una ventina di os che ci hanno permesso di passare gradualmente la consegna agli os che cessavano rispetto a quelli che rientravano. Un reclutamento che però non soddisfa CGL Cisle Will, secondo cui il fabbisogno di personale è maggiore e lo sarà ancora di più con l'entrata in vigore di quota 100 che comporterà un ricorso al pensionamento superiore alle attese.